Chi dite che io sia? È da questa domanda posta da Gesù e Discepoli che ha preso spunto la riflessione del Papa nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta. Francesco ha ricordato che il Maestro custodiva in una maniera speciale la sua identità, tanto da rivelarla gradualmente, spiegando che il cammino è fatto di sofferenza, di passione e di morte. Solo nella Domenica delle Palme Gesù cominciava a preparare i cuori al mistero di Dio, passo dopo passo, secondo la sua pedagogia, accompagnandolo con le nostre croci sulla strada verso la redenzione. È tanto l'amore di Dio, è tanto brutto il peccato, che Lui ci salva così, con questa identità, nella croce. Non si può capire Gesù Cristo Redentore senza la croce. Non si può capire. Possiamo arrivare fino a pensare che è un gran profeta, fa cose buone, è un santo. Ma Cristo Redentore senza la croce non si può capire. ci prepara a essere dei cirenei, per aiutarlo a portare la croce. E la nostra vita cristiana senza questo non è cristiana. È una vita spirituale, buona. Gesù è un grande profeta, ma anche ci ha salvato, ma lui e io, no. Tu con lui, facendo la stessa strada. Anche la nostra identità di cristiani deve essere custodita. E non credere che essere cristiani è un merito, è un cammino spirituale, di perfezione. Non è un merito, è pura grazia. Non è un merito, è un merito, è un merito.